Che cuciniamo stasera? Vellutata di carote. Carote! Capivole, bucciamole o vedete voi. Le bucce le mettiamo da parte e le risciacquiamo. Le carote le facciamo a rondelle. Tutte le carote in un pentolino. Metà delle bucce ci facciamo un bel brodino. Insieme ad una costa di sedano e un pizzico di sale. A fiamma viva sulle carote mettiamo un goccetto d'olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Copriamo con il loro brodo. Rametto di rosmarino e facciamo cuocere per 40 minuti a fiamma medio passo. Tra scorsi 40 minuti frulliamo tutto. Grattata di parmigiano generosissima. Mescolare. Ricordate le scorze. Sale e olio, frigidrice ad aria a 200 gradi 10 minuti. Facciamo croccantare su di un panno scotto. Composition! Vellutata di carote. Buon appetito!